cari amici del canale youtube dentro la notizia quest'oggi in primis cercheremo di capire qualcosa di più riguardo al cosiddetto oro degli italiani poi parleremo dei dati dell'industria tedesca usciti ieri che testimoniano un crollo che avevo preannunciato nel tg flash del 25 dicembre scorso e per ultimo vedremo a che punto è il possibile accordo tra trump e xi jinping partiamo subito dal senato che il 3 aprile ha approvato la mozione presentata da alberto bagnai della lega e laura bottici movimento 5 stelle sulla proprietà delle riserve auree della banca centrale con 141 sì 83 no e 12 astenuti la mozione leggo testualmente impegna il governo ad adottare le opportune iniziative al fine di definire l'assetto della proprietà delle riserve auree detenute dalla banca d'italia nel rispetto della normativa europea e ad acquisire le notizie relative alla consistenza e allo stato di conservazione delle riserve auree ancora detenute all'estero e le modalità per l'eventuale loro rimpatrio in premessa si legge che la banca d'italia è il quarto detentore di riserve auree al mondo 2452 tonnellate costituite quasi interamente da 95.493 lingotti custoditi prevalentemente nei propri cavò e in parte all'estero questa mozione ha il pregio di evidenziare la necessità di un intervento legislativo chiarificatore perché la detenzione da parte di banca italia dell'oro non implica alcun implicito diritto di proprietà in sostanza loro potrebbe essere detenuto la banca italia per conto terzi laura botti ci ha presentato la mozione con queste parole in primis vorrei dichiarare che nessuno della maggioranza ha mai detto di voler utilizzare le riserve auree per il pagamento del debito pubblico o per coprire le spese correnti ma una legge serve perché mettiamo si sciolga l'unione europea per cui non c'è più la bce e non abbiamo più l'euro dove vanno le riserve auree e come fanno a ritornare nella proprietà dello stato non è scritto da nessuna parte secondo voi queste parole seguite da questo e da altri atti potrebbero lasciare intuire che qualcosa bolle in pentola vi è la possibilità che l'unione europea si sciolga e quindi è giusto essere preparati o ci si sta attrezzando ad un eventuale italexit in caso di necessità fatemi sapere cosa ne pensate bagnai ha rassicurato tutti coloro che vedevano quest'atto come un tentativo del governo di prendere in mano la gestione di banca italia e la conseguente gestione delle riserve aurifere con queste parole l'indipendenza della banca centrale non è in discussione nessuno pensa di dare l'oro al governo ma è importante affermare che quell'oro è l'oro degli italiani gli fa ecco la bottici l'indipendenza della banca centrale non è assolutamente in discussione è un principio che noi rispettiamo perché è iscritto nel nostro ordinamento la gestione dell'oro è assolutamente indiscussa nessuno pensa di darla al governo ai comprensibili dubbi espressi da fratelli d'italia se l'oro sia realmente degli italiani ha risposto sicuro di sé bagnai con queste parole non capisco neppure di che cosa stiamo discutendo mi sembra una questione puramente tautologica è ovvio che l'oro sede lo stato è degli italiani d'altra parte anche secondo la leghista cinzia bonfrisco la risposta non è così scontata infatti dice oggi i soci di via nazionale sono dei privati e dunque un chiarimento è necessario a dire il vero a cercare di dare una risposta ci aveva approvato anche il presidente del consiglio giuseppe conte che il 21 febbraio scorso in risposta ad un'interrogazione parlamentare al senato diceva non sembra possibile che le riserve auree possono essere rivendicate dai partecipanti al capitale di banca d'italia i cui diritti patrimoniali sono limitati al valore del capitale e agli utili netti annuali torniamo ora ad alberto bagnai che presentando la mozione ha messo in risalto un altro importante aspetto con queste parole l'esigenza di adeguare le nostre istituzioni a quelle dei nostri partner di maggior successo mi sembra non necessiti di spiegazioni è tautologica come è tautologico dire che le riserve dello stato sono dello stato peraltro questo principio basilare lo troverete affermato negli ordinamenti di qualsiasi paese civile ad esempio all'articolo 9 bis dello statuto della banca centrale belga o alle sezioni 3 e 16 dello statuto della banca centrale onandese o all'articolo 7 comma 3 lettera c dello statuto della banca centrale spagnola ora veniamo a quanto sta accadendo in germania che a motivo della debole domanda estera ha visto l'industria che dipende in buona parte dalle esportazioni in sofferenza a febbraio sorprendentemente con il peggior crollo degli ordini da oltre due anni a questa parte gli ordinativi alle industrie sono diminuiti di ben il 4,2 per cento rispetto al mese precedente come annunciato ieri giovedì 4 aprile dal ministero federale dell'economia tedesca al contrario le aspettative secondo gli economisti intervistati dalla reuters erano per una crescita dello 0,3 per cento ad aggravare la situazione bisogna considerare che a gennaio gli ordini erano già diminuiti del 2,1 per cento e questo inizia a disegnare un trend ribassista a rotta di collo il ministro dell'economia tedesca Olaf Scholz ieri ha cercato di non enfatizzare la situazione ma ha dovuto ammettere che nei prossimi mesi soprattutto a causa della mancanza di domanda estera c'è ancora da aspettarsi un economia industriale contenuta come dicevamo gli economisti sono rimasti sorpresi dai brutti dati sull'economia ma non chi segue questo canale che già da quattro mesi era stato avvisato della crisi economica incombente sulla germania queste le parole di andreas schoerle di deca bank i dati sono un'amara delusione i nuovi ordini segnalano una netta flessione ha detto il capo economista di vp bank thomas gizelle cercando di aggrapparsi all'auspicio che le nuove misure di stimolo del governo cinese possano riflettersi sulle esportazioni europee e tedesche in particolare cosa ha fatto la cina beh per esempio abbassato l'iva e ha annunciato miliardi di investimenti in infrastrutture tra parentesi che queste misure siano un esempio per il rilancio dell'economia italiana ad ogni modo è doveroso ricordare che la repubblica popolare cinese è il principale partner commerciale della germania ovviamente come in italia anche in germania sono saltate tutte le previsioni dei principali istituti di ricerca che sono subito corsi ai ripari più che dimezzando le loro previsioni per la crescita economica tedesca ma temo che debbano rivederle al ribasso ancora e fra poco vi dirò il perché tornando alle stime i vari istituti prevedevano un aumento del pil 2019 dell'1,9 per cento che hanno dovuto ridurre all'attuale 0,8 per cento secondo il rapporto primaverile rilasciato ieri giovedì ora facciamo un breve salto fuori d'europa ma non dimentichiamoci la questione in sospeso perché l'economia tedesca potrebbe peggiorare ulteriormente il presidente degli stati uniti donald trump afferma che ipotizzabile un accordo commerciale con la cina entro un mese circa ieri trump a washington subito dopo l'incontro con il negoziatore cinese liu e ha detto che rapidi progressi sono stati nei colloqui in corso pare quindi che l'accordo stia per essere definito ricordiamo che trump aveva già parlato di progressi significativi a febbraio ora un breve riepilogo di quanto accaduto negli ultimi mesi nei rapporti tra washington e pechino gli stati uniti hanno imposto dazi speciali su merci provenienti dalla cina per un valore superiore a 250 miliardi di euro la cina ha quindi reso pan per focaccia dopodiché per settimane delegazioni di entrambi i paesi hanno fatto la spola tra pechino e washington per cercare una soluzione al conflitto cosa vuole ottenere trump in parole povere gli stati uniti chiedono più accesso al mercato in cina una riduzione del loro deficit commerciale e una migliore protezione contro la pirateria ma proprio questo accordo nella disputa commerciale potrebbe avere conseguenze drastiche per la germania perché perché è realistico attendersi che trump torni nuovamente a concentrarsi sul mercato automobilistico tedesco già in passato aveva dichiarato che l'industria automobilistica tedesca costituisce una minaccia per la sicurezza nazionale degli stati uniti e aveva minacciato dazi punitivi fino al 25 per cento ovviamente sarebbe la fine o quasi del mercato automobilistico tedesco in america un colpo da ko per l'economia tedesca questa potrebbe essere una buona notizia per l'italia mi piacerebbe leggere le vostre considerazioni nei commenti iscrivetevi numerosi al canale dentro la notizia aiutateci a crescere e difendere assieme gli interessi delle persone contro le losche trame dell'elite ai nostri danni se apprezzate il lavoro che stiamo facendo potete sostenerci con una donazione che ci permetta di continuare per il bene di tutti un abbraccio dal vostro roby